E' stato grazie al fiuto di Tami, pastore belga del nucleo cinofili di Firenze, che i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 224 grammi di droga, hashish, marijuana e cocaina. A Cortona così è finito in manette un uomo ed altre sei persone sono state denunciate sempre per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutte residenti tra Rezzo, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana. Si tratta del bilancio di una complessa attività investigativa dei militari del nucleo operativo della compagnia cortonese. Secondo gli investigatori erano dediti al traffico illecito di stupefacenti, i carabinieri infatti hanno accertato dal marzo al giugno 2024 numerose cessioni di droga da assuntori residenti in Val di Chiana. A Camucia sempre i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione a seguito di un mandato di arresto europeo per traffico illecito di sostanze stupefacenti a carico di un 35enne residente alla fratta di Cortona. Un altro 35enne è stato poi denunciato a Terontora al termine di un'attività di indagine. Lo scorso 16 giugno l'uomo avrebbe messo a segno un primo colpo in una casa vacanze da dove aveva portato via monedino oro, orologi, tablet e denaro contante, un bottino di circa 7.000 euro. Poche ore dopo aveva tentato l'irruzione in un agriturismo ma era stato messo in fuga dal proprietario. Grazie alle immagini di video sorveglianza i militari sono riusciti a risalire all'autore che adesso dovrà rispondere dei reati di furto e tentativo di furto. Proseguono anche le indagini alla ricerca dei complici.